Dopo i successi di pubblico e i risultati gestionali positivi del primo anno di attività, la Fondazione Rete Lirica delle Marche alza il sipario sulla nuova stagione con la Turandot di Giacomo Puccini nella versione incompiuta del 1926, così come la eseguì alla prima la scala Arturo Toscanini. Sul podio dell'orchestra filarmonica marchigiana salirà il direttore Pietro Rizzo, mentre alla guida del coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno ci sarà Giovanni Farina. Dopo la prima tappa a fermo lo spettacolo arriva al Teatro della Fortuna di Fano sabato 16 novembre alle ore 20 e 30. Turandot apre questa stagione veramente bella e importante. Mettiamo insieme le orchestre, mettiamo insieme tutti i tecnici, le maestranze, questo è una cosa importante, puntiamo su grandi interpreti ma anche su tutti i giovani che ormai sanno che la Fondazione Lirica delle Marche è un palcoscenico aperto, proprio per provare queste emozioni e sentire dentro un teatro che è già bello, perché il teatro nostro è veramente molto bello, queste note, questa musica che appassioneranno sicuramente tutti. Lo spettacolo della durata di 100 minuti non intervallati sarà interpretato dal soprano Tiziana Caruso. La regia, le scene, i costumi e le luci sono firmate da Pierluigi Pizzi, una delle personalità artistiche più importanti del teatro marchigiano, il quale concentrerà la massima attenzione sul potere trascinante della musica. Il sottolineo che questa che il pubblico vedrà è la Turandot che sottolinea l'incompiutezza dell'opera, perché l'opera verrà eseguita senza il finale che Puccini non ha scritto e l'opera verrà eseguita così come fu eseguita la prima volta da Toscanini alla Scala. La stagione teatrale apre anche con importanti risultati della Fondazione che negli anni ha consolidato a bilancio un aumento dei contributi, presentando quest'anno anche altre due opere, Carmen e l'Italiana in Algeri. Direttore, la Fondazione ha compiuto un traguardo molto importante, in questo caso il progetto sperimentato per tre anni quest'anno si è andato sempre più a consolidare. Sì, l'idea è partita nel 2014, l'esperimento è andato totalmente bene che per il triennio invece 2018-2020 si è deciso di dar vita a un soggetto unico, appunto la Fondazione Rete Lirica delle Marche e questo sta già dando i suoi frutti perché ci troviamo già di fronte a un cartellone invernale regionale ulteriormente potenziato.